Federica Cala ha 13 anni, vive a Rocca di Caprileone e soffre di una malattia neurodegenerativa rarissima, la Smarduno, una malattia che necessita di assistenza continua. Da anni i genitori, Davide e Laura, lottano affinché venga garantito a Federica un servizio di assistenza domiciliare da parte di personale infermieristico specializzato e finalmente nel gennaio del 2019 lo avevano ottenuto. Nell'agosto scorso, però, le 12 ore di assistenza domiciliare si sono improvvisamente ridotte, ma non si è ridotta la necessità di aiuto. Così i signori Cala si sono anche rivolti alla magistratura per far valere i diritti della loro figlia. Solo qualche ora fa, l'ASP di Messina, con una nota, ha replicato che il servizio di assistenza era già stato ripristinato, ma in realtà così non è. A casa nostra, dal PAI del 10 marzo, vengono a casa nostra l'infermiera più l'OS per 6 ore al giorno, nel senso che insieme all'infermiera viene l'OS per 6 ore al giorno. Non abbiamo un'assistenza di 12 ore, assolutamente no, così come è stato detto dal comunicato dell'ASP. Noi necessitiamo di 12 ore al giorno di assistenza infermieristica, ma tutt'oggi non l'abbiamo. Purtroppo dal 1 di marzo, dopo la commissione che è stata inviata dall'ASP il 7 di febbraio a casa nostra, queste ore sono state ridotte prima a 2, poi a 3, poi sono state ridotte a 6 da ieri. C'è arrivato un PAI nuovo e solo 6 ore al giorno, ma per noi non sono sufficienti assolutamente, noi abbiamo necessità di un'assistenza continua per Federica. Tutt'oggi però quella assistenza che per 3 anni avevamo avuto da parte dell'Adi, che è l'assistenza domiciliare integrata, ci è stata completamente negata, perché l'azienda Sisifo non è in grado di garantire questo servizio.